C'è stato un racconto abbastanza straziante al programma Uomini e Donne, dove l'ex cavaliere Diego Tavani, rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale, ha detto «Questa notte due fari, lo stritolio delle gomme, un rumore forte e poi il buio». Ha cominciato così il suo racconto per appunto raccontare quel che gli è successo. Una notizia che ha immediatamente allertato i fan del programma che non lo hanno dimenticato. Il suo passaggio nel studio è infatti legato ad una delle dame più note della storia del dating show, vero Ida Platano, con la quale sembrava ad un passo dall'uscire vittorioso e invece il destino aveva deciso in maniera totalmente diversa. Dentro lo studio, infatti, il cavaliere aveva trovato l'amore con Aneta Buktova, poi naufragato alla fine dello scorso anno con un comunicato dai toni gelidi dopo l'amore manifestato in studio. Lui è il cavaliere Diego Tavani che racconta di essere stato miracolato dalla sorte. Racconta infatti come per attimi non abbiamo perso la vita. Nello specifico racconta «e poi il miracolo». Guardi su e capisci che qualcuno, per centimetri, ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso, ancora posso vedere mio figlio crescere. Non è chiara la dinamica dell'incidente, né dove si sia verificato, l'importante però è che non ci sono rischi per la salute di Diego ma solo un grande spavento. Dopo la fine della storia con Aneta Diego sembra essere single. La loro storia, come detto sopra, era finita in maniera turbolenta. Alle parole di lui avevano fatto eco quelle di lei. Raccontava Aneta. Ciao a tutti. Visto l'affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine. E ancora, quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione, a cui io non ho mai creduto, si è rivelato un modo poco maturo e privo di confronto. Tutto ciò mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia. Buon Natale, la vostra Aneta, Aneta di cui si era spesso vociferato circa un ritorno a uomini e donne, voci che poi si sono rivelate infondate. Spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io, che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.